Clean Seal Life coinvolge gli amanti del mare in una campagna di pulizia di coste e fondali. Oggi l'operazione è interessata un tratto di spiaggia pescarese. L'iniziativa è volta anche a richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni su un'azione immediata nel bloccare l'utilizzo delle plastiche monouso, sulla scia dell'esempio delle isole Tremiti, ma anche di impegni che stanno prendendo diverse amministrazioni a livello nazionale, perché ormai il tema della plastica è un tema di carattere mondiale. Verrà poi schedato tutta la tipologia di plastica che raccogliamo. In pratica non è tanto una pulizia, ma è un monitoraggio di quanta plastica riusciamo a trovare in 100 metri di battigia per 50. Da lì si quantificherà quanta plastica abbiamo proprio nel mare. Clean Seal Life non è una petizione, ma un impegno a fare qualcosa di concreto per il nostro mare.